L'ultima lezione, prima del break per le vacanze pasquali, abbiamo introdurre i principali parametri che utilizzeremo per confrontare i differenti metodi o tipi di modulazione che avremo a il bitrate abbiamo visto che è semplicemente l'1 bit al secondo mandati, poiché il modulatore prende un gruppo di k bit e vi associa un simbolo a Mario, il modulatore vuol dire manda k bit, in quanto tempo? Ogni simbolo a Mario viene trasmesso in un intervallo di simbolo ampio o a durata t, quindi il bitrate è k su t, o se preferite lo 2 di m su t, perché k bit da un luogo 2 alla k possibili simboli, 2 alla k l'abbiamo chiamato m e qui il numero di bit mandati è lo 2 di m su, che è diviso per chi? Da il bitrate. Il secondo parametro molto importante è la potenza, abbiamo visto che la potenza è l'energia media per simbolo diviso il tempo di simbolo e può essere anche espressa moltiplicando e dividendo per il numero il bit come il bitrate per l'energia media per bit. Questo secondo passaggio è molto semplice perché basta e moltiplicate per il numero il bit, dividerete il numero il bit, allora il numero il bit diviso t è il bitrate, mentre l'energia media per simbolo diviso il numero il bit è l'energia media per bit. Non ci ho messo il pedice TxRx perché noi l'abbiamo ricavato come potenza trasmessa, ma se rifacciamo i stessi conti in ricezione avremo la potenza ricevuta, si può scrivere in questa maniera. Chiaramente qui avremo l'energia media per simbolo ricevuta e qui nel gmedia per bit ricevuta. La differenza tra trasmesso e ricevuto è semplicemente il coefficiente di alternazione al quadrato del canale. Nel nostro caso fa 1 quindi non ci preoccupiamo, poi quando sarà diverso 1 vedremo. Poi abbiamo visto anche la, abbiamo calcolato la PSD del segnale e abbiamo visto che era un caso generale della PSD del segnale PAM e la banda impiegata era dettata dalle forme d'onde trasmesse al modulatore, quindi se il modulatore ha a disposizione M forme d'onde al segnale 1, al segnale 2 e al segnale M, la banda è essenzialmente dettata dalle forme d'onde al segnale 1, al segnale 2 e al segnale M. E infine ci siamo preoccupati di vedere l'effetto che la condizione Nyquist che abbiamo imposto, in modo tale da permettere una demodulazione ML coerente simbolo a simbolo, che è fattibile, altrimenti se non ci fosse stata quella condizione per fare una demodulazione ML, la demodulazione ML sarebbe diventata, sarebbe stata, sarebbe stata, sarebbe stata obbligata a fare una demodulazione congiunta, che è la complessità esponenziale del numero dei simboli trasmessi e dunque praticabile. Bene, la condizione Nyquist stavamo vedendo che impone una certa struttura alle forme d'onda della trasmessa del modulatore, infatti era la condizione Nyquist che è la correlazione tra la forma d'onda S con I e la forma d'onda S con J campionata sia uguale a l'energia mutua soltanto quando il ritardo di campionamento, distante il campionamento è zero, altrimenti fa sempre zero. E abbiamo visto che questa condizione significa che essenzialmente non c'è interferenza in testa simbolica e quindi possiamo fare una demodulazione disgiunta. Noi abbiamo dato anche un'ulteriore condizione, l'abbiamo dato sulle forme d'onda di base, e cioè abbiamo detto che la correlazione tra Psi con I e Psi con J campionata fosse uguale a delta con I di J, delta con M. Chiaramente qui c'è l'energia mutua, qui dovremmo metterci l'energia mutua, ma Psi con I e Psi con J sono a norma vitali e ortonormali, quindi se è diverso da J sono ortogonali e quindi fa zero, Psi con J è l'energia della forma d'onda di base che fa uno e quindi c'è l'energia. E abbiamo detto che questa condizione qui sulle forme d'onda di base chiaramente implica quest'altro sui segnali che sono ottenuti come combinazioni lineari delle forme d'onda di base, cioè questa è più forte di questa. Noi richiediamo questa qui adesso. E abbiamo anche visto che questa qui nel dominio della frequenza corrisponde a richiedere che la replicazione, perché? Perché qui stiamo facendo un campionamento, 1 su T, replicazione a passo, qui cambiano a passo T, quindi qui replicazione a passo 1 su T, tra Psi con I di F e Psi con J coniugato di F deve fare delta IJ. Questa è la condizione di Nyquist sulle forme d'onda di base, vista nel dominio della frequenza. E ci eravamo fermati a questo punto. Oggi vogliamo vedere cosa implica questa condizione alla banda del segnale. In particolare vedremo qui che questa condizione condizione ha delle implicazioni sulla banda minima da poter utilizzare. Per vederlo cominciamo a fare qualche caso particolare. Perché qui abbiamo che questa condizione coinvolge la forma d'onda di base è Psi con J. Ok? Ma io ho Q forme d'onda di base, dove Q è la dimensionalità dello spazio di segnale. Quindi a seconda di quanto fa Q ho un certo numero differente di condizioni. Cominciamo con il caso più semplice, modulazioni lineari. Va bene? Nel caso di modulazioni lineari Q fa 1. E se Q fa 1 c'è un'unica forma d'onda di base, quindi qui non c'è Psi con I, Psi con J, c'è un'unica Psi. E questa è la stessa, quindi è Psi modulo quadro. La condizione diventa quindi 1 su T, replicazione a passo 1 su T, di Psi di F modulo quadro, uguale, qui I fa J e quindi questa fa 1 costante. Questa è l'unica condizione che abbiamo nel caso di modulazione lineare. Perché abbiamo un'unica forma d'onda di base. E in questo caso corrisponde anche con l'unica condizione che avremmo sulle forme d'onda trasmesse dal modulatore, cioè su S con 1, S con 2, S con M. Prima abbiamo detto che la condizione neanche sulle forme d'onda di base implica quella sulle forme d'onda disponibile dal modulatore S con 1, S con 2, S con M. Ma quando è lineare sono la stessa cosa queste due condizioni. Quindi è un se e solo se. Che significa questa condizione? Per vederlo, o soprattutto le implicazioni A, per vederlo facciamo tre casi. Il primo caso è quello in cui la banda W del segnale trasmesso, che dipende dalle forme d'onda del modulatore S con 1, S con 2, S con M. Ma tutte queste forme d'onda sono generalmente dipendenti fra di loro. E sono tutte multiple di un'unica forma d'onda di base, S. Quindi la banda è di S con 1 è W. La banda di S con 2 è W. La banda di S con M è W. E sono tutte uguali alla banda di S che è sempre W. che è poi la banda del segnale trasmesso. Allora possiamo avere tre casi. Primo caso, W. Minore strettamente di 1 su 2T. Quindi vuol dire che Ψ potrebbe avere un aspetto del genere, o meglio quello che mi pare. quello che mi pare fino a un certo punto, perché deve essere reale e quindi deve essere ermidiano. Va bene? Qui sto rappresentando modulo ICDF al quadrato. Quindi, ripeto, se la banda del segnale trasmesso è W, e dunque la banda dell'unica forma d'onda di base disponibile è W, e in questo primo caso che stiamo analizzando in cui W è minore di 1 su 2T, quindi la situazione è qualcosa del genere. Il punto 1 su 2T magari si trova qui, W è strettamente minore. E questo è il modulo 4, quindi potrebbe essere la ESD, Energy Spectrum Spectral Density. Ha un andamento del genere. Insomma, è qualcosa che il contenuto dell'intervallo ha meno W più W. La domanda è, si può in questo caso verificare la condizione Nyquist che richiede che la replicazione di quella forma d'onda ligand che ho disegnato a passo 1 su T divisa per T di A1, o se preferite è possibile ottenere una costante replicando questo oggetto a passo 1 su T? Siete in grado di progettare una forma d'onda di base PSI, fatta come vi pare, purché la PSD, quindi CDF modulo 4 sia inclusa in meno W W W, non potete andare fuori perché questo sono i tipi, in modo tale che quando lo andate a replicare faccia una costante? riuscite a immaginare una forma da dare a questo scarabocchio che ho fatto qui in modo tale che quando lo replicate, c'è la mente di questo stesso scarabocchio anche qui, qui, qui e così via, esce poi una costante, mi viene in mente una forma d'onda che possa soddisfare questa condizione. Questa è una costante, nel senso che pur prendendo il rettangolo, la finestra rettangolare, non riusciremo mai a fare una costante perché comunque la banda è minore di uno su tutti, cioè sarà spezzata comunque, no? Posso fare quello che voglio, anche prendere la piatta qua, così quando la replicare ha un aspetto che sembra quasi piatto comunque, ma non ce la farò mai retempire questi buchi qui dentro perché la banda è rigorosamente limitata a uno su due t, stretto, minore stretto. La conclusione, ovvia e banale da questo disegno, è che la condizione nawis non potrà mai essere verificata se la banda W della forma d'onda si è più piccola di uno su due t. Insomma, se la banda è troppo piccola, la condizione nawis non può essere verificata. E questo è un po' quello che dicevamo prima, cioè vedremo che la condizione nawis implica qualcosa sulla banda minima del segnale, cioè la banda non può essere troppo piccola, altrimenti la condizione nawis non può essere verificata. Ma potete pensarla anche in maniera molto rozza, se ricordate che la condizione nawis è una condizione di assenza di interferenza intersimbolica, un modo banale per impedire che ci sia interferenza intersimbolica, è che l'impulsino di base unico che abbiamo utilizzato per mandare tutti i possibili segnali, sia strettamente limitato all'intervallo di segnazione 0 t. Quindi, prendetelo piccolo così e non ci sarà mai interferenza intersimbolica, ma chiaramente prenderlo piccolo così deve essere più piccolo del tempo di simbolo t. Ok? E quindi se non volete avere interferenza intersimbolica, la durata dell'impulso deve essere piccola, ma se la durata dell'impulso è piccola la sua banda è grande. Quindi è ovvio che per non avere interferenza intersimbolica deve avere una banda abbastanza grande. E se la banda è troppo piccola, avrà per forza interferenza intersimbolica, perché se la banda è così piccola, vuol dire che questo impulso non può essere a durata così piccola, magari a una durata del genere, ed è chiaro che il segnale mandato in questa intervallo di segnazione avrà da interferire con il segnale di prima e con il segnale di dopo. È un discorso un po' semplicistico, perché non è veramente così quello che succede, ma dà un po' l'idea. Caso 2. W è esattamente uguale a 1 su 2t. La domanda è quindi la stessa. Riuscite a dirmi che aspetto deve avere CDF modulo quadro se deve avere bande esattamente pari a 1 su 2t, in modo tale che quando la vado a replicare ottenga una costante. Come deve essere fatta CDF modulo quadro in modo tale che se io la replico ottenga una costante? S è una costante. E non sia una costante? No. Un rettangolo. Se CDF fosse un rettangolo in una finestra rettangolare ampia esattamente t, e cioè quindi che si estende da 1 su t, e quindi che si estende in frequenza da meno 1 su 2t a più 1 su 2t, allora quando questa finestra rettangolare qui viene replicata a passo 1 su t, la prima replica è questa, la seconda replica è questa, la terza replica è questa, la quarta è questa, e così via che ottenete esattamente la costante che volevate. E non esistono altri aspetti che potete immaginare per CDF modulo quadro, cioè l'unico modo per avere una costante una volta che la replicata è passo 1 su 2t, e che CDF sia una finestra rettangolare. Cioè stiamo dicendo che CDF modulo quadro deve essere uguale a t pi greco di ft, in modo tale che quando la replicate per il periodo 1 su t e la dividete qui per 1 su t, questo qui va via, rimane questa replicazione che fa 1 ovunque e è proprio quella che volevamo. Quindi l'unico modo per soddisfare la condizione Nyquist utilizzando una forma d'onda a banda 1 su 2t, è che la forma d'onda sia in frequenza una finestra rettangolare, perché chiaramente se CDF modulo quadro è una finestra rettangolare, allora è chiaro che CDF è radice di t sempre una finestra rettangolare, perché la radice di una finestra rettangolare è sempre una finestra rettangolare. e quindi stiamo dicendo che CDF è l'antitrasformata di una finestra rettangolare, cioè una funzione sinc, 1 su radice di t sinc di t su t. Questo è l'unico modo che avete per far sì che la condizione Nyquist sia soddisfatta, quando volete una banda piccola, la più piccola che potete immaginare, 1 su 2t. e quindi magari qui posso anche aggiornare questa cosa per dire che la banda deve essere maggiore o uguale di 1 su 2t, altrimenti non ci posso stare. in realtà non è neanche corretto perché questo è soltanto il caso non dimensionale, cioè lineare, vedremo come aggiornarla nel caso generale. Però è quello che volevo dirvi, la condizione Nyquist impone un limite alla banda minimale che potete utilizzare. Deve essere perlomeno 1 su 2t, quindi concentrate a modulazioni lineali, q uguale 1. Lo aggiorniamo ancora meglio dopo. Ora però la funzione sinc non è che sia molto simpatica. tra l'altro vi ricordo che questa condizione qua, replicazione psi di f modulo quadro che proviene da questa condizione qui, autocorrelazione di psi in mt pari a delta di m, usciva fuori da una condizione imposta da noi per avere decodifica simbolo a simbolo, perché quando facevate la decodifica congiunta si faceva il prodotto scalare fra una stringa dei simboli trasmessa e una stringa dei simboli possibili trasmesse. E quando facevate il prodotto scalare c'erano tutti i possibili prodotti scalari fra una certa forma d'onda psi in un certo istante e un'altra forma d'onda psi in un altro istante. Se guardate l'apparato trasmittente ricevente è come dire che in trasmissione utilizzate un filtro psi in modo tale che in uscita avete la sommatoria sul k di simbolo con k, psi, pi, meno kt, ok? E poi la recensione che si faceva e la recensione si fa facendo un filtro adattato si andavano all'unica forma d'onda disponibile di base, che è psi, psi di meno t, congiugato non serve perché è reale, ok? E poi si andava a campionare a passo kt, e poi si faceva tutto che bisogna fare, si andava a minima istanza con s1, s2 e s con m, va bene? Ho un massimo della recensione con s1, s con 2 e s con m, e poi si prende una decisione. Decisione qua, va bene? Ma per questo appare un psi di f modulo quadro? Per questo vi chiediamo che il lato correlazione di psi sia impulsiva, perché in trasmissione c'è psi, in ingezione c'è psi, e io qui sto facendo la convulsione tra il filtro trasmittente e il filtro ricevente, psi convolto a psi, che in frequenza va a psi di f modulo quadro, se è piatta non è distorciente, se è impulsiva elimina l'interferenza intersimbolica. Ma noi qui abbiamo detto che se io voglio utilizzare la banda minima, cioè 1 su 2t, devo fare che psi è una sinc, e il filtro ricevente è ancora una sinc. Quali sono i problemi di dover utilizzare un filtro trasmittente e un filtro ricevente di tipo sinc? 1 è instabile, perché va a 0 troppo lentamente, quindi l'integrale del modulo della risposta impulsiva fa infinito. 2 è anticausale, se ci servisse la casualità sarebbe un problema, lo potrei sempre troncare e poi traslare, in modo da avere qualcosa di approssimativamente sinc, 3 è anche sensibile agli istanti di campionamento, sensibile a errori di campionamento. perché, ripeto, sinc in trasmissione, con voluto sinc in recensione abbiamo autocorrelazione di una sinc, che è sempre una sinc, infatti in frequenza abbiamo finestra rettangolare, per finestra rettangolare ottengo sempre, psi df modulo quadro, sempre una finestra rettangolare, e questo mi fa sì che non ho interferenza intersimbolica. lo capisco bene che non ho interferenza intersimbolica nel domino del tempo, infatti nel domino del tempo abbiamo autocorrelazione impulsiva, ma infatti sinc in modo sinc fa sempre una sinc, e quindi ha questo andamento, autocorrelazione di psi è una sinc, perché non c'è interferenza intersimbolica, perché quando campionate la sinc a passo t, prendete 1 a 0, e poi prendete tutti quanti i nulli della sinc, e quindi non c'è interferenza intersimbolica. è chiaro? Questo però è un problema, perché se voi sbagliate di poco il passo di campionamento, invece di prendere la 0, prendete una virgola a destra, una virgola a sinistra, non è un grosso problema, invece di avere un guadagno 1 sul simbolo corrente che state qualificando, avrete un guadagno 1 meno epsilon, 1 più epsilon, un simbolo che state qualificando. Il problema invece si ha sull'interferenza intersimbolica, perché invece di prendere i nulli, perché ho detto che ho sbagliato il passo di campionamento, invece di prendere t, 2t, 3t, lo prende t più epsilon, 2t più epsilon, 3t più epsilon, quindi avrò una leggera interferenza dal simbolo successivo precedente, una leggera interferenza da 2 simboli prima e dopo, una leggera interferenza da 3 simboli prima e dopo, e siccome la sinc ha un decadimento a 0 molto lento, perché va 1 su t, saranno tanti i simboli che daranno fastidio prima di andare a 0 completamente la sinc, quindi sarà una elevata sensibilità errori di campionamento, perché basta sbagliare poco il passo di campionamento e l'andamento a 0 della sinc vi dà luogo a tanti termini, tanti contributi di interferenza intersimbolica. Questa banda qui, la chiamo banda minima, sotto questa non posso scendere, in realtà ancora non ho dimostrato quello che sopra posso andare, lo faremo adesso, vedremo che al di sopra di questa banda si possono, la condizione è che questa può essere soddisfatta, in molti modi, con questa banda minima, per questo la chiamo minima può essere soddisfatta in un unico modo, al di sotto di questa banda non può essere soddisfatta, quindi questa è proprio la minima banda che potete avere. ultimo caso, sempre che non ci sono domande, quella in cui la banda della forma ad onda psi, quindi la banda del segnale modulato, è maggiore di 1 su 2p, la banda minima, strettamente maggiore. Quindi è il terzo caso. La domanda è sempre quella, che aspetto A deve avere, che aspetto deve avere la forma ad onda psi, affinché venga soddisfatta la condizione Nyquist? Beh, in questo caso ci sono molti modi per soddisfare la condizione Nyquist. Facciamo qualche esempio. Beh, il primo esempio l'abbiamo detto, basta che voi limitate l'impulso psi, l'unica forma, all'intervallo 0d. Ad esempio, psi di t uguale 1 su radice di t, impulso rettangolare ampio proprio t, ma lo posso prendere anche ampio t, t mezzi, t quarti, quello che sia. Cioè stiamo dicendo che prendiamo una forma d'onda di base, che è un impulso rettangolare. La condizione Nyquist è verificata? Sì che è verificata, è l'esempio che abbiamo fatto per più di una volta. Come faccio a vedere verificata? Beh, posso vederlo in frequenza, e cioè verificare che psi di f modulo quadro replicato faccia una costante. Oppure vedremo nel tempo, verificare che la correlazione sia impulsiva. verificare in frequenza è più difficile perché la trasformata di una finestra rettangolare è una sinc, per replicare una sinc non so bene che significa, ma nel tempo è molto facile perché l'autocorrelazione devo solo verificare sia una delta di Dirac una volta che la avete campionato. Cioè che psi, convoluto psi, faccia ancora campionata sia una delta di Dirac. Dico convoluto perché dovrei dire la correlazione, quindi dovrei fare la convoluzione, ma tanto la finestra rettangolare è simmetrica e correlazione e convoluzione sono la stessa cosa, perché io la correlazione posso fare con la convoluzione dando come secondo segnale il segnale ribaltato, ma siccome è pari, oddio questo non è pari, quindi le cose cambiano. Lo vediamo subito insomma. Che succede se faccio la correlazione tra psi e se stessa? Una finestra rettangolare. Che succede se faccio la correlazione tra una finestra rettangolare e una finestra rettangolare? Ottengo una finestra triangolare, infatti basta prendere questo e lo fate slittare da bene finito a più infinito fino a quando il nostro qui fa sempre zero, poi dopo qui comincio a integrare qualcosa che è la sovrapposizione tra queste due, quindi una fettina molto piccola. Mano a mano è disposto verso destra, entra sempre più la seconda finestra nella prima, entra linearmente quindi cresce linearmente la parte integrata, qui ho il massimo e poi comincio a decrescere linearmente quindi una finestra triangolare. E il massimo ce l'ho quando questa finestra ritrattata di zero. Quando questa finestra ritrattata di zero c'ho la finestra per la finestra integrale modulo quadro che fa uno. quindi a zero fa uno. Prima, andamento leggero. Che a zero faccia uno è ovvio perché è l'energia della finestra della forma d'onda in base psi che è energia unitaria e infatti quando fate l'energia di psi avete base della terza al quadrato che fa uno. ovvio che quando andate a campionare questa forma d'onda a passo a molti correttini prendete un nullo, nullo, uno, zero, zero e così via. e quindi è impulsivo e non c'è interferenza intersimbolica. Ma il motivo l'abbiamo già spiegato perché quando fate il prodotto fra questo segnale qui e un altro segnale ritrattato di un multiplo intero del tempo di simbolo non ci può essere interferenza intersimbolica perché sono non sovrapposti nel tempo. quindi quando fate il prodotto fa zero e integrato fa zero. Questo è il caso in cui utilizzo una finestra rettangolare qui utilizzo una finestra rettangolare e quando vado a campionare l'uscita qui è una finestra triangolare qui scrivo proporzionale a perché ci ho messo anche uno sulle 10 e t perché la voglio sempre normalitare però chiaramente i coefficienti di proporzionalità non hanno alcun impatto sulla struttura del segnale qui stiamo guardando la condizione Nyquist quindi non ci interessano i coefficienti di proporzionalità. Ok? Ripeto, questo è il caso più ovvio che potete immaginare per evitare interferenza intersimbolica cioè che tra due corrette e due simboli che stanno in istanti di segnazioni differenti si dia fastidio l'uno agli altri la cosa più ovvio da fare è limitare il simbolo alla durata del periodo di simbolo anzi se volete stare ancora più tranquilli lo prendete ancora più piccolo apriete una bella finestra rettangolare ampia 1,2,3 t terzi va bene? qual è il problema però di questo tipo di finestra qui? è che c'è un elevato accesso di banda perché la finestra rettangolare ampia t ha una PSD, ha una ESD tipo sinc quadro che la sua trasforma di Fourier è una sinc che va a zero lentamente e quindi c'è una elevata banda cioè che banda ha questa forma d'onda? dipende, è infinita se la nostra nozione in banda è il supporto della forma d'onda cioè l'insieme su cui la sua trasforma di Fourier è rigorosamente diversa da zero se poi invece andate a prendere una banda al 90% dell'energia 95% dell'energia avete più o meno 1 su t il primo numero della sinc 2 su t il secondo numero se volete il 99% dell'energia avete bisogno di 11 su t se non ricordo male è chiaro che questa rispetto alla banda minima è molto maggiore, vedete? quindi questa può essere una buona forma d'onda di base da utilizzare la condizione di acquisto è soddisfatta il prezzo da pagare è che la banda è elevata c'è un accesso di bande elevata non è chiaramente l'unico modo di avere forme d'onda in acquisto un altro esempio è questo qui stavolta la vedo nel dominio della frequenza la condizione di acquisto quindi mi cerco di immaginare una forma d'onda psi che è trasformata ottengo psi di f modulo quadro quindi cerco di immaginare una psi di f modulo quadro che è replicata di una costanta bene, un modo per ottenerla è utilizzare questa forma d'onda quindi far si che il cdf modulo quadro sia una finestra triangolare e deve essere alta anche t perché così quando lo andate a replicare la dividete per t quindi f1 quindi psi di f modulo quadro la potete prendere in questa maniera come t è una finestra triangolare a base di 2t quindi va da meno t a t scusate da meno 1 su t a più 1 su t siamo in frequenza e quindi la forma d'onda psi di t deve essere antitrasformata della radice di una finestra triangolare ok? io voglio psi di t bene, psi di t deve essere antitrasformata della radice di una finestra triangolare perché questa forma d'onda qui si soddisfa la condizione in acquist? è facile vederlo come detto in frequenza perché se io faccio psi di f modulo quadro e ottengo un triangolo e lo replico appasso 1 su t cosa ottengo? questa è la replica centrale poi prendo questa e la trasla a destra di 1 su t quindi la punta del triangolo sta 1 su t poi c'è un'altra qui poi c'è un'altra qui e così via come vedete a 0 rimane l'altezza t della finestra triangolare centrale a 1 su 2t che succede? sto a metà del lato di destro della finestra triangolare a cui somma la metà del lato sinistra dell'altra finestra triangolare scifta da destra di 1 su t t mezzi più t mezzi fa t di qua la prima finestra è arrivata a 0 ma la prima finestra è arrivata a t 0 più t fa t costante ok? questa è la replicazione mentre una sta scendendo linearmente l'altra sale linearmente e la somma è costante si sommano a t quindi questa linea dovrebbe essere t ma a noi interessa 1 su t replicazione a passo 1 su t e quindi qui avremo 1 questo è il grafico della funzione 1 su t replicazione a passo 1 su t di xdf modulo quadro come vedete questa forma d'onda soddisfa la condizione Nyquist per questa forma d'onda intendo è la forma d'onda soddisfa la condizione Nyquist uguale a un trasformata di radice della finestra triangolare ok? questa forma d'onda soddisfa la condizione Nyquist per verificarlo ripeto l'abbiamo visto nel dominio della frequenza quant'è la banda di questa forma d'onda? 1 su t è il doppio della banda minima 1 su t è il doppio della banda minima che magari è un po' tanto che magari è un po' tanto abbiamo scoperto che la banda minima è irraggiungibile perché 1 su 2t e per raggiungerla devo utilizzare impulsi di tipo sinc che non posso farla quindi la banda minima è irraggiungibile però non vorrei neanche starci così lontano 1 su t è il doppio della banda minima mi chiedo si può fare qualcosa di meglio? la risposta è sì infatti anche questa non è l'unica forma d'onda però posso sfruttare questo trucchetto qui e pensare a un'altra forma d'onda a banda un po' più piccola che comunque soddisfa la condizione Nyquist altro esempio quindi posso prendere una forma d'onda psi t che è trasformata e psi di f modulo quadro abbia questo aspetto un trapezio questo punto qua è 1 su 2t la mezza altezza del trapezio prima prima nel caso triangolare 1 su 2t era metà del lato questo punto qui è un po' di più di 1 su 2t 1 meno alfa su 2t 1 meno alfa su 2t questo punto qui è un po' di meno di 1 su 2t 1 meno alfa su 2t e credo che il trucchetto che si utilizzi debba essere piuttosto chiaro è lo stesso trucchetto di prima ora quando andate a replicare le repliche si sovrapporranno in maniera opportuna e daranno luogo al segnale costante infatti se fate la replicazione 1 su 2t le replicazioni con l'oggetto lì ottenete che avete un trapezio così il secondo trapezio è questo il terzo è questo e così via per cui la replicazione è il segnale costante alto t che è diviso per t da 1 questa è la banda minima e questo pezzettino in più che è alfa su 2t quindi è l'eccesso di banda ora cambiando la costante alfa cambiate l'eccesso di banda e se non vi piaceva l'eccesso di banda della casa precedente in cui xdf modulo quadro era una finestra triangolare e l'eccesso di banda era proprio 1 su 2t perchè la banda totale era 1 su t quindi avevate una banda doppio rispetto a quella minima perchè l'eccesso di banda era proprio pari alla banda minima quindi allora prendete un coefficiente alfa strettamente maggiore di 0 e ottenete una banda più piccola di quella che aveva nel caso precedente tra l'altro vi faccio notare che alfa chiaramente appartiene all'intervallo 0,1 e se alfa uguale a 0 ottenete il triangolo del caso precedente perchè parte da scusate se alfa uguale a 1 ottenete il triangolo precedente di questo lato parte da qui e arriva a 1 su t se alfa uguale a 0 invece avete la finestra rettangolare infatti con alfa uguale a 0 non c'è eccesso di banda la banda è pari alla banda minima ma sappiamo già che per avere una banda minima dovete utilizzare una finestra rettangolare in frequenza cioè impulsi tipo sinc al solito si, t è l'antitrasformata di quell'oggetto la cdf modulo quadro sotto radice si, t'è l'aggetto 4 1 1 2 1 2